Questo è un momento storico importante per richiamare l'attenzione sull'autonomia, autonomia vista come opportunità ma anche vista come responsabilità e come laboratorio di buone prassi e auspicabilmente dato il mio ruolo, il nostro ruolo collettivo di buone norme, speriamo di produrre delle buone norme. E poi credo che sia anche il momento per cercare di rinsaldare un'idea di identità nazionale basata sul riconoscimento delle autonomie, delle specificità locali e delle identità locali, che non devono essere viste in contrapposizione le une rispetto alle altre ma come una buona occasione per dialogare e per imparare gli uni dagli altri. Quindi questa è anche una vetrina per far capire agli altri come siamo noi trentini, che cosa abbiamo intenzione di fare nel nostro immediato futuro.